Bella ragazzi, io sono Kano, se voglio provare ad iniziare una serie che si chiama In questa serie, visto che è ricominciata la scuola, il lavoro, un po' tutto, voglio cercare di non farvi pensare al fatto che sia lunedì, almeno per quei due o tre minuti di video. Ma iniziamo subito. I topi possono partorire fino a 105 cuccioli all'anno, quindi occhio alle invasioni di topi. Se continuassimo a crescere con i ritmi dei neonati, all'età di 10 anni peseremo 187 kg. Lo sai che il dente di un elefante può pesare quanto una palla da bowling? Quando siamo spaventati, le nostre orecchie producono più cerume rispetto a quando non lo siamo. Le persone destrose vivono in media dai 3-5 anni in più rispetto ai mancini. Mi dispiace per voi mancini, morirete giovani. Il nostro cervello può memorizzare 50.000 differenti odori percepiti dal naso. Dopo un pranzo troppo abbondante, il nostro udito si fa meno acuto. I rumori, anche se piccolissimi, provocano una dilatazione della pupilla. Alcune specie di vermi, se non trovano proprio nulla di commestibile, cominciano a mangiare se stessi. La più antica gomma da masticare mai scoperta risale a più di 9.000 anni fa. Nello spazio gli astronauti non potrebbero piangere, poiché lì non c'è forza di gravità, le loro lacrime non potrebbero uscire dagli occhi. Per questo episodio è tutto, spero di avervi fatto iniziare la settimana con un sorriso. Fatemi sapere se volete questo tipo di video con un like, un commento e se riscontro un feedback positivo cercherò di portarvi questo tipo di video ogni lunedì. E niente, per oggi è tutto, io sono Canos, bella! Al prossimo episodio Grazie a tutti.